voci della chiesa iblea un programma della redazione di radio caris in blu ragusa un caro saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radio caris io sono toti e in studio con noi giuseppe cascone salve a tutti seminarista della diocesi di ragusa che il prossimo 18 marzo sarà ordinato diacono giuseppe raccontaci un po di te chi è giuseppe giuseppe è un ragazzo di 27 anni inizierei proprio così cresciuto a ragusa nato a ragusa da una famiglia abbastanza numerosa infatti siamo in cinque mamma papà e due miei fratelli uno più grande e uno più piccolo sono cresciuto in un ambiente abbastanza sereno tranquillo direi cresciuto tra i banconi del bar dato che i miei genitori svolgono proprio questa attività tra un cappuccino e un cornetto le mie grandi passioni risultano essere la musica la lettura di testi di romanzi forse è legata anche alla mia formazione dato che ho frequentato per cinque anni l'istuto magistrale qui a ragusa dove nel 2016 mi sono diplomato le mie grandi passioni sono infatti la musica e la lettura di romanzi specialmente le poesie mi definisco spesso un animo romantico proprio per questo un ragazzo come tanti altri potremmo dire però arriva un momento nella tua vita in cui c'è una chiamata una chiamata del signore quando ebbe inizio la tua vocazione stabilire un momento preciso in cui la mia vocazione ha avuto inizio risulta essere complicato il vangelo ci racconta delle tre del pomeriggio un momento specifico dove il signore incontra qualcuno però forse nella mia vita il signore è stato davvero presente sempre solo che io non ero tanto attento ad ascoltare la sua voce ad ascoltare la sua parola per questo mi è stato tanto di aiuto sia la scuola superiore quindi il magistrale ma sia anche tante persone che nella mia vita mi hanno aiutato a scoprire la bellezza del volto di dio la prima vocazione davvero che ci rivolge il signore è quella di essere felici e nel momento in cui nella mia vita ho vissuto dei momenti di infelicità la sua presenza diciamo si è fatta più forte io non posso dimenticare i buoni insegnamenti di mia nonna che davvero mi ha aiutato a crescere nella fede a migliorare e a migliorarmi ma anche non posso dimenticare l'aiuto di tutti quegli amici che mi hanno aiutato a fare discernimento un esempio importante per la mia vita risulta essere il mio parroco che proprio ammirandolo piano piano scoperto la bellezza della vocazione e poi un aspetto importante lo devo una mia compagna di classe dove in un momento mio di confusione mi ha illuminato dicendomi che forse avevo una scelta che già avevo preso nel mio cuore ma che non riuscivo a prenderla in maniera consapevole quindi non riuscivo a lasciare tutto il resto per perseguire quella scelta che avevo fatto e da lì piano piano mi sono iniziato a interrogare giuseppe è un ragazzo che ha sempre frequentato le parrocchie sempre frequentato no c'è stato un momento è stato un periodo della mia vita dopo la crescima dove un pochino mi sono allontanato dalla parrocchia però percepivo che più mi allontanavo più c'era quel senso di insoddisfazione e di infelicità vuoi anche le compagnie sbagliate vuoi anche situazioni della vita particolare mi hanno portato a sperimentare forse proprio come il figlio al prodigo quella lontananza dalla casa del padre e poi piano piano eventi particolari eventi strani o meglio delle dio incidenze mi hanno portato poi a ritornare in parrocchia un evento particolare io ricordo è stato nel 2009 quando è tornata la statua della madonna di fatima in ospedale e pur non avendo nulla che dividere pur non frequentando già la parrocchia però sono stato attirato da questo evento e ho voluto partecipare e lì forse qualcosina si è iniziato a mettere in moto piano piano ho una domanda curiosa da farti ma quando da piccolo ti chiedevano cosa volevi fare da grande cosa rispondevi prepararsi all'ordinazione certo richiede un impegno non indifferente un impegno da un punto di vista fisico un impegno anche da un punto di vista spirituale ovviamente le emozioni sono tante come tanti sono i ricordi che si rincorrono soprattutto poi vivendo la l'ordinazione nella parrocchia di origine dove davvero sono cresciuto tra i banchi di quella chiesa ma sono cresciuto anche nelle stanze del salone parrocchiale dove tante tante esperienze e tante tante persone che adesso non ci sono tornano a rifiorire nella mia mente le emozioni come dicevo infatti sono tante sono diverse ma soprattutto l'emozione più insistente l'emozione che percepisco con maggiore grandezza è quello di sentire gli occhi del signore sopra di me una parte della liturgia delle ore ci ricorda il signore ti ha scelto e ti ha prediletto e queste sono proprio le parole che mi ripeti in questi momenti di preparazione e se il signore mi ha scelto e mi ha prediletto la mia risposta umana potrebbe essere perché proprio io e forse perché il signore davvero si serve di tutti per poter costruire il suo regno e quindi le emozioni davvero sono diverse sono tante ma sono anche belle pronto a essere lanciato in questo nuovo ministero pronto a essere davvero un servitore nella vigna del signore un servitore nella vigna del signore mi volevo ricollegare a questa ultima tua riflessione chiedendoti se c'è un messaggio che vuoi lanciare ai giovani oggi un messaggio certo tanto è quello di non avere paura davanti la vita sono tempi particolari questi e quindi avere paura potrebbe essere facile ma non non avere paura in generale ma non avere paura di fare scelte coraggiose ogni scelta comporta e porta con sé un atto di coraggio e l'atto di coraggio è quello di guardarci dentro in primo luogo e di scegliere ciò che davvero non solo ci rende felici ma ciò che davvero può migliorare la società lo dicevo la prima vocazione che il signore ci rivolge la prima chiamata è proprio quella di essere felici e nel momento in cui noi smettiamo di essere felici forse è il momento in cui ci allontaniamo davvero dalla volontà del signore da questa chiamata che ci rivolge e quindi ai ragazzi dico proprio questo non avere paura di fare scelte coraggiose di andare anche controcorrente non è semplice la vita ma non è semplice da tutti i punti di vista però se si ha una motivazione profonda e di senso e allora la vita diventa davvero migliore in fondo lo miglioriamo noi questo mondo giorno dopo il giorno nei miei momenti particolari mi ripetevo sempre se non io chi se non qui dove se non ora quando e questo potrebbe essere magari il motore per poter cambiare migliorare e magari edificare il regno di dio grazie giuseppe per essere stato con noi grazie mille per la tua testimonianza qui a radio caris ti auguriamo il meglio che la vita possa donarti e che tu sia un grande aiuto per tutti i giovani nel nome di gesù e quindi imbraccia gesù per tutto grazie buon proseguimento a tutti un caro saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radio carisi avete ascoltato voci della chiesa iblea un programma della redazione di radio caris in blu ragusa grazie mille per la chiesa iblea un programma del nostro canale